Cari amici di Radio Maria, vi saluto carosamente da Kibeho. Kibeho è un luogo delle apparizioni della Madonna e adesso Kibeho sta diventando anche un centro formativo per tutte le Radio Maria in Africa, anche se manca ancora un'aura adeguata. Nell'anno scorso abbiamo formato 40 preti, direttori e assistenti editoriali. Abbiamo visto i frutti spirituali, la crescita editoriale, anche di generosità, perché gli ascoltatori seguono di più i programmi di qualità. Quest'anno vorremmo organizzare la formazione di 25 preti, direttori e 25 assistenti editoriali. La maggioranza delle persone da formare verrà dalla Nigeria, dove vogliamo creare 10 sottostazioni. Come lo sapete, anche a Kibeho abbiamo la sede di Radio Maria. Con questa sede riusciamo a fare pregare il continente africano a un ritmo settimanale. Ad esempio, ogni martedì tutte le Radio Maria di lingua francese sono collegate a Kibeho. Ogni venerdì tutte le Radio Maria di lingua inglese sono collegate a Kibeho per pregare il Santo Rosario. Ovviamente ci sono rispese per fare funzionare questa sede di Kibeho. Sia per la gestione della sede di Radio Maria a Kibeho, sia per la formazione a Kibeho, contiamo sulla vostra generosità. Che la madre del verbo benedica tutti voi, che la regina di Radio Maria benedica le vostre mani generose.